Paolo Paoli News iscriviti al canale mettete mi piace non mi piace condividete e commentate e seguite le pagine facebook ciao Ciao a tutti fan di Sonic è stato ufficial... dopo tre giorni è stato è stato ufficialmente annunciato il secondo film di Sonic si intitola Sonic il film 2 allora ve lo ricordate la scena finale in cui Dennis che è il mio personaggio preferito della serie dopo Dr. Eggman? ovviamente e allora vediamo il logo del film il film sarà svelato prossimamente negli USA il 18 aprile 2022 e in Italia ma non si sa ancora e anche negli altri cinema cioè spagnoli, giapponesi eccetera eccetera delle altre due beh che ne penso di questo film? ho visto il primo film al cinema e mi è piaciuto tanto in cui Sonic ha conosciuto un umano come di Sonic X lo dico tutto nella mia recensione di Sonic EFood prossimamente sul mio canale ma pensare se alla fine del film apparirà Knuckles sarebbe bello vedere vero? e poi se apparisse Amy? che merda e Skicks allora? e chissà se vedremo Dr. Eggman rasato al normale alla fine del film lo vedremo sicuramente e per gli umani e per Teis chissà se Teis raggiungerà Sonic in questo secondo film lo scopriremo le sue prossime novità di Sonic e Film 2 e ti verrà aggiornato prossimamente sul suo film e vedremo o chissà o prossimamente vediamo iscriviti al canale mettete più mi piace condividete e commentate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao vi terrò aggiornati sul film di Sonic e Film 2 su questo canale Polo Poli News ciao ciao